buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video con novembre si conclude il passo del colombaccio e di conseguenza la nostra caccia d'appostamento quelle che vedrete saranno le nostre ultime azioni di caccia ed il nostro finale di stagione ma la stagione venatoria e di conseguenza i miei video di caccia non terminano qua abbiamo giovane setter da addestrare e tante avventure da iniziare quindi restate aggiornati iscrivendovi al canale e sostenendomi con i vostri like e di vostri commenti buona visione e non vengano eccolo è è cascato quando ho pigiato io allora no io ho cliccato guarda questo ma l'hai tirato anche te l'ho tirato anch'io ma questo perché quando ho pigiato è cascato anche io quando ho cliccato non ti resti inizio no quello di là l'avete tirato? sì ma che cazzo si è cascato? no no devi andare verso il capanno occhio eh io ho uno che è cascato lì e un altro che è cascato lì io ho uno che è cascato lì e un altro che è cascato lì io ho uno che è cascato lì e un altro che è stato questo hurra me E' cruda. vado io il terremoto ecco Teo! andiamo! ora devo venire a raccattare io Teo no! me lo portavi si sei stato bravino un po' duro bravo perché l'ha trovata ehi dai bello dai bravo bravo Teo bravo vieni qui Teo vieni qui Teo vieni 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 bravo vieni 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 bravo 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 vieni vieni bravo bravo vieni 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 ecco uno dalla mia parte si lo vedo dai casca casca presto oh c'è un branchetto di ritorno vedete si ora dirò che a questi poi dove va? eccoli eh la mia sentito 8 ne sono cascati 2 2 si 2 si 6 6 6 7 8 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 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 12 12 13 13 14 15 16 ma là laggiù dove è cascato devi vedere dove è cascato buono ma questo è stato duro bene ragazzi siamo giunti al termine se il video vi è piaciuto lasciate un like e chi ancora non lo avesse fatto lo invito ad iscriversi al canale come mi avete chiesto vi sto mostrando le cartucce che abbiamo utilizzato durante questa stagione durante questo passo del colombaccio e inoltre in un prossimo video ne andremo anche a parlare più approfonditamente insieme ragazzi mi invito sempre sempre a rispettare l'ambiente in cui andate a coltivare le vostre passioni che sia il mare o che sia la macchia in questo caso raccattando le cartucce nell'altro caso rispettando il mare ragazzi sempre rispettate l'ambiente in cui coltivate le vostre passioni solo grazie alla natura che noi possiamo andare avanti noi ci vediamo in un prossimo video ciao